Ciao amici di Dottor Fungo, da me e dal mio amico Ugo, oggi con me a funghi, ci siamo dedicati questo pomeriggio, anche se breve, non l'abbiamo potuto fare tutto il giorno, abbiamo girato senza trovare praticamente niente, un fungo solo, anzi due, due funghi, due bei porcini e poi andiamo a vedere questa bella fungaia insieme. Uno Boom, peccato la romaca ma gran fungo, due L'altro dov'è? Tre, eccolo qua Eccolo qua, tre E il quattro viene da sé Ora ripesto Dove l'è che lo vedo? Eccolo qui, questo è un pochino più vissuto ma sempre bel fungo perché sono bianchi sotto, sono sani ragazzi, è che le lumachine ne hanno approfittato Continuiamo Ciao ragazzi A presto Ciao ragazzi Ciao ragazzi